È là fuori, da qualche parte. La persona perfetta per te. Il marito perfetto e la moglie perfetta. Sono disposti a qualunque cosa pur di salvaguardare quell'unione imperfetta, ma preziosissima. Anche ad uccidere. Il marito perfetto e la moglie perfetto. Il marito perfetto e la moglie perfetto. Il marito perfetto e la moglie perfetto.